musica applausi io ho imparato a fare uno schiotto di vita e lo ho imparato a fare dov'è essere in mezzo a fare una punta di scoperto comunque questo intro di questa nanzone sconosciuta vi vado a presentare i miei compagni i miei compagni i miei compagni di viaggio che hanno permesso anche questo progetto perché poi chiaramente non c'è un rapporto solo cantante e musicista tra noi c'è un rapporto umano molto forte Lorenzo Panelli Lorenzo Panelli Lorenzo Panelli C'è Joe Rossi Io sono onorata di averti stasera qui Joe e poi lui è un po' diciamo colui che coordina tantissime cose poi con lui, Lorenzo, Franz stiamo mettendo su un album nuovo di questa tipologia che non si fa un po' pazzerello perché abbiamo voglia di osare ok? e lui è un po' il promotore di questo progetto anche insieme a Lorenzo Panelli che si occupa di tanti arrangiamenti e la verità che si occupa di il compagno Maurice Borgio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti